Altro giorno altri super risultati dagli atleti italiani. E' stato abbattuto per la quarta volta nel giro di 10 giorni il record italiano indoor di 1500 metri. A realizzarlo è stato Sama Meslek con 3.35 e 63, primo italiano di sempre sotto i 3.36 e che è arrivato così al 71esimo posto delle liste mondiali all time. Un altro record italiano è stato quello dei 60 metri piani da Zainab Dossot che ha fermato il crono a 7.02, 3 centesimi di miglioramento rispetto al suo precedente record e ormai può lottare tranquillamente con le migliori al mondo e può ambire anche una medaglia ai prossimi mondiali indoor che saranno a inizio marzo. Non a caso è al secondo posto al mondo quest'anno. Doveroso citare anche Andy Diaz che ha fatto un 17.61 nel salto triplo migliorando la già sua leadership mondiale e che ormai inutile nasconderlo è veramente tra i più forti atleti al mondo nel salto triplo. Per farvi capire il livello c'è quasi mezzo metro di differenza tra lui e il resto del mondo per quest'anno.